Da oltre 30 anni, Macelleria L'Honday, dove troverete prodotti genuini e di qualità, che arrivano direttamente dall'azienda agricola Nonno Ciro, a 9 km di distanza. Gli animali vengono allevati con rispetto e vivono in perfetto benessere durante l'allevamento, avendo a disposizione un veterinario H24 e un nutrizionista. Macelleria L'Honday, dal produttore al consumatore. Tutti i giorni, la qualità sulla tua tavola.